Oggi abbiamo un'azienda che si dirama in tutti i settori, noi siamo un ente di formazione accreditato in Regione Campania, un'agenzia formativa accreditata dal Ministero del Lavoro, siamo un organismo di mediazione accreditato al Ministero della Giustizia, ma ancora di più siamo al servizio dei cittadini, siamo al servizio di tutti i ragazzi che oggi vogliono intraprendere un percorso di formazione serio, professionale, di qualità, acquisendo delle competenze che sono immediatamente spendibili nel mercato del lavoro. Questo è il nostro fiorello occhiello, abbiamo delle testimonianze spontanee, sono più di 300. Noi anche grazie a CSF Startup, che è un ramo del nostro azienda, siamo oggi in grado non solo di offrire un posto di lavoro sicuro, ma anche fargli creare un posto di lavoro attraverso i corsi di microcredito centrale. Noi riusciamo a derogare fino a 50.000 euro a tasso zero, quindi grazie all'aiuto di Invitale a fare dei corsi di formazione gratuiti per quelli che vogliono diventare imprenditore.